Studenti dell'Istituto Magistrale Porta in autogestione ormai da qualche giorno con noi i rappresentanti degli studenti Fabrizio e Gabriele. Innanzitutto spieghiamo quali sono i motivi che vi hanno portato all'autogestione. I motivi dell'autogestione sono i soliti per quanto riguarda la struttura, ma quest'anno ci sono anche problemi di organizzazione interna. Ci troviamo in una scuola dove ormai l'attività didattica fatica ad esserci perché certe condizioni non vengono rispettate dalla persona alleata e da chi di dovere. I problemi della struttura si sanno, questa scuola non è a norma per quanto riguarda la 626, non è a norma per quanto riguarda le uscite di sicurezza, per i piani di evacuazione. Ci troviamo in una scuola che era stata dichiarata non a norma per il liceo scientifico 7 anni fa, ci hanno fatto venire qua con la promessa di una scuola nuova. Invece qua si è diventata una soluzione definitiva e a noi ovviamente non va bene perché certe condizioni strutturali sono non a norma e poi non consentono davvero una vita decente in questa scuola. Ecco, ieri siete andati a Villa Saporiti, sede della provincia proprietaria di Villa Malia e che cosa avete chiesto e innanzitutto è ottenuto? Beh, innanzitutto bisogna dire che siamo arrivati lì con la promessa di un incontro, ci telefonano la sera prima e ci hanno rifiutato questo incontro. Siamo arrivati in l'incento e facendoci sentire a forza, anche grazie all'intervento della Digo, siamo riusciti a parlare con il vicepresidente Zanetti e gli abbiamo esposto tutti i nostri problemi per quanto riguarda la struttura e tutto il resto. L'unica cosa che siamo riusciti a tenere è un incontro ufficiale, con un invito ufficiale firmato dal vicepresidente per settimana prossima dove parleremo con gli assessori e ci faremo dare le nostre risposte, quelle che noi vogliamo. Sulla scorta di tutto questo, adesso cosa state decidendo? Adesso sulla base dei risultati ottenuti stiamo vedendo che cosa fare in futuro, nel senso che fino ad oggi dei risultati ben precisi non se ne vedono e quindi anche secondo le esigenze di tutti vediamo sull'eventualità di continuare o di attuare altre forme di protesta perché noi in questa scuola dobbiamo starci tanti anni, vogliamo certe condizioni assicurate sia dalla personale ATA, sia dalla dirigenza e sia dall'amministrazione provinciale affinché questa sia davvero una scuola e non un luogo in cui entriamo e cerchiamo di fare lezione, cerchiamo di arrabattare qualche ora di lezione tra la disorganizzazione generale. La partecipazione degli studenti è pressoché totale? Sì, in classe in questi giorni ci sono state al massimo 20 persone, quasi la totalità era presente, sia ieri eravamo circa 200, sia in tutti i giorni l'autogestione c'è stata, anche perché abbiamo cercato di assicurare di fare un'autogestione consapevole con interventi di emergency, di associazioni di volontariato, con interventi culturali, di arteterapia, eccetera, eccetera, abbiamo cercato di organizzarci noi per dare un chiaro segnale che lavorando insieme, lavorando col cuore, può davvero essere una scuola migliore. Professori, docenti e preside come l'hanno presa? I professori sono schierati dalla nostra parte pur non condividendo i metodi, però ci hanno dato il loro appoggio per quanto riguarda tutti i problemi che noi abbiamo esposto. Il preside ci ha dato risposte, campate per aria, dicendo che tutto funziona, ma in realtà la situazione non è cambiata più di tanto. L'altro giorno ha scoppiato un bagno e siamo stati noi studenti a dover chiudere l'acqua, a dover pulire tutto quanto, quindi se lui dice che la scuola funziona io non ci credo. Poi i docenti invece ci hanno dato il loro appoggio.